Proseguono senza sosta le ricerche della 53enne di origini tedesche scomparso da un paio di settimane in provincia di Arezzo. Oggi in azione è anche l'Achi, il pastore tedesco delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Con tecniche TAS praticamente gli abbiamo assegnato una zona e stanno battendo questa zona, diciamo è una zona abbastanza vicina all'abitazione. Di Claus, nata a Norimberga, ma da anni residente nel comune di Arezzo, si sono perse le tracce lo scorso 16 febbraio. È scomparso dalla piccola frazione di pietra lavata dove abita. Le ricerche erano scattate sin dalle prime ore, coordinate dai vigili del fuoco con il supporto dei carabinieri. Nei giorni scorsi abbiamo fatto delle ricerche sia con l'aiuto dell'elicottero che con i volontari e squadre nostre. Abbiamo battuto diverse zone, diciamo le zone quelle più probabili, e ancora però non abbiamo avuto nessun risultato. Si cerca nella zona boschiva tra Bivignano, Palazzo del Pero e le ville di Monterchi. Al setaccio anche l'abitazione dell'uomo, una villetta immersa nei boschi, ma di lui ancora nessuna traccia. La zona è abbastanza impervia e poi anche di grandi dimensioni. Anche accanto all'abitazione comunque ci sono dei fossati, delle zone abbastanza impervie e vediamo un po'. Solo pochi giorni prima della sparizione l'uomo avrebbe avuto un incidente nel comune di Monterchi, a seguito del quale era stata sospesa la patente e l'auto era inutilizzabile. Aveva altri mezzi a disposizione, ma tutti sono stati trovati nelle pertinenze dell'abitazione ed intanto arriva anche un appello da parte del comune di Arezzo. Per riuscire a ritrovare Klaus, grazie magari anche alla collaborazione dei cittadini, l'ente sui canali social ha pubblicato la fotografia e i dati anagrafici del 53enne, alto circa 1,80 m di corporatura magra e con capelli ed occhi chiari.